29esima edizione della presepe vivente di Faggiano, uno degli eventi natalizi più suggestivi della provincia di Taranto, meta ogni anno di migliaia di visitatori e che anche quest'anno figura tra le pagine che il settimanale Loionio dedica alla guida agli eventi di questo Natale. Quest'anno, naturalmente a differenza dell'anno scorso dove avevamo ancora delle restrizioni, sarà un presepe più aperto, quindi il visitatore oltre a sentire il Natale attraverso l'atmosfera magica che si crea in quest'ambiente potrà alla fine della visita degustare le tradizionali pettole e degustare anche una goccia di vino. 25, 26 e 29 dicembre, 1 gennaio 2023, 4 e 6 gennaio, queste le date in cui un centinaio di figuranti animeranno il presepe, richieste sorprendenti per questa edizione da tutta la provincia. Ho ricevuto delle telefonate da diverse mamme, neomamme della provincia che ci tengono molto a venire a rappresentare la Sacra Femiglia all'interno del nostro presepe. Questo significa che il nostro presepe suscita quel mistero della fede all'interno di ogni credente che lo porta naturalmente a voler, di propria spontanea volontà, a partecipare alle serate del presepe. Grazie. Grazie. Grazie.